Per rispondere a questa domanda rispondiamo prima a un'altra domanda chi è che emette le obbligazioni, quali sono i soggetti che vengono all'asta questa premessa di restituire il denaro teoricamente chiunque potrebbe promettere di restituire del denaro e chiedere a degli investitori, dei soggetti qualsiasi di acquistare questa promessa se uno di voi facesse questa promessa, mediamente, poi ci sarà magari qualcuno che sarà figlio di qualche dinastia di imprenditori quindi sarà un po' l'eccezione, però mediamente pochi crederebbero a quella promessa e quindi pochi acquisterebbero quell'obbligazione ed è proprio così, i soggetti che emettono l'obbligazione sono i soggetti che hanno una credibilità tale da fare sì che quella promessa sia percepita come una promessa credibile e quindi collegata ad un basso valore di rischio o comunque ad un accettabile valore di rischio e quindi ci sono dei soggetti disposti ad acquistare quella promessa ma quali sono questi soggetti credibili? beh, tipicamente di due categorie, gli stati e le imprese intese in senso lato, quando parlo di stato posso parlare di amministrazioni statali quindi anche le regioni, piuttosto che i comuni quello che volete così come le imprese intese assolutamente in senso più ampio possibile nel termine cominciamo a discutere della prima categoria di soggetti lo Stato perché lo Stato emette obbligazioni? cioè perché lo Stato si fa prestare del denaro? la risposta è semplice perché spesso, molto spesso nei paesi occidentali gli stati spendono più di quanto in tassa e quindi come tutti i soggetti che spendono più di quanto in tassa hanno necessità di farsi prestare il denaro per coprire questo disavanzo questa differenza tra uscite maggiori delle entrate noi abbiamo detto che non parliamo di macroeconomia però quando ne abbiamo la possibilità facciamo dei richiami di macroeconomia anche per farvi conoscere un po' di terminologia che hanno a che fare con il mondo macroeconomico l'equazione fondamentale del bilancio dello Stato è questa il bilancio dello Stato voi non conoscete tecnicamente che cos'è il bilancio diciamo in modo assolutamente non preciso la differenza tra entrate e uscite mettiamola così il bilancio dello Stato è la differenza tra entrate e uscite le entrate sono essenzialmente le tasse sappiamo tutti cosa sono le tasse abbiamo chiaro il concetto in realtà è un po' meno chiaro di quello che possa sembrare ma comunque bene o male è chiaro qual è il concetto le entrate dello Stato sono le tasse quali sono le uscite? le uscite sono di due categorie spesa pubblica e trasferimenti sono entrambe spese dello Stato ma a livello molto macro comunque si fa questa distinzione tra queste due categorie che hanno funzione diversa la spesa pubblica sono i soldi che lo Stato spende per far funzionare la macchina statale cosa c'è qui dentro? sono le spese più varie ad esempio il mio stipendio io sono un dipendente pubblico in quanto docente universitario entra qui dentro spesa pubblica la bolletta della luce che illumina quest'aula entra qui dentro spesa pubblica gli stipendi di tutti i dipendenti pubblici medici, professori, insegnanti dipendenti del ministero piuttosto che del comune vigili, quello che volete entra qui dentro spesa pubblica spesa pubblica le spese della sanità entrono qui dentro tipicamente le spese per la difesa polizia, esercito entrono qui dentro tutto quello che serve per far funzionare lo Stato gli stipendi dei politici e così via dicendo e così via dicendo d'accordo? trasferimenti i trasferimenti sono delle uscite delle spese che lo Stato fa con l'obiettivo di ridurre le diseguaglianze sociali essenzialmente e dare pari opportunità a tutti i cittadini quindi una categoria di spese un po' diverse anche lo scusa ritorno un attimo alla spesa pubblica qui dentro non c'è solo la spesa corretta ma anche gli investimenti i soldi che lo Stato fa per costruire università per costruire strade seppur vengono trattate con una metodologia contabile un po' diversa divisa negli anni ma comunque il concetto è lo stesso ritorno ai trasferimenti dicevo le spese che lo Stato fa per ridurre le diseguaglianze sociali e per dare pari opportunità a tutti i cittadini ad esempio le borse di studio che quelli di voi che ne hanno diritto percepiscono entrano in questa voce trasferimenti l'obiettivo è quello di dare l'opportunità anche ai meno ricchi di frequentare l'università e quindi di avere pari opportunità con chi ha maggiori possibilità economica gli incentivi che vengono dati alle imprese che assumono lavoratori nelle aree svantaggiate del paese quindi a pil più basso del paese rientrano qui dentro i trasferimenti le pensioni sociali cioè le pensioni che vengono date a coloro che nella loro vita lavorativa non hanno raggiunto i requisiti minimi di contribuzione per ottenere una pensione entrano qui dentro e così ti è dicendo d'accordo? ritorniamo un attimo alle tasse per finanziare queste spese lo Stato impone le tasse ai cittadini tipicamente i sistemi fiscali variano da paese a paese però più o meno in tutti i paesi occidentali ci sono due grandi categorie di imposte le imposte dirette e le imposte indirette le imposte dirette sono quelle che i cittadini pagano direttamente sul proprio reddito la logica è chiunque consegue un reddito all'interno di un paese deve versare una quota una percentuale di quel reddito come imposta si può scegliere qual è questa percentuale questa è una scelta politica però di fatto tutti i paesi occidentali almeno applicano delle imposte dirette l'imposta diretta più nota quella che dà un maggiore ingeggettino fino a poco tempo fa si chiamava IRPEF imposta sul reddito delle persone fisiche adesso il concetto è lo stesso e cambiato il nome si chiama IRE imposta sul reddito però ancora di fatto nel linguaggio comune si riferisce a questa imposta come IRPEF significa che i cittadini pagano una percentuale del proprio reddito come appunto imposta qui si può scegliere se applicare una percentuale fissa qualsiasi sia il reddito si paga sempre la stessa percentuale un'alicota appunto fissa oppure comunitane come nella maggior parte dei paesi occidentali pagare delle alicote progressive cioè man mano che cresce il reddito si versa una percentuale maggiore del proprio reddito come imposta appunto sul reddito il discorso è molto complesso ci allontanerebbe è chiaro che tutti ci viene in mente che si si è ragionevole applicare delle imposte progressive però è chiaro che se crescono troppo queste imposte progressive purtroppo si genera un incentivo a cercare in modo più o meno legale a non pagare queste imposte d'accordo mentre invece qual è il dibattito politico se noi invece fissiamo una alicota unica ogni tanto nel dibattito politico c'è stato qualche partito qualche governo che ha ventilato l'ipotesi dell'alicota unica tutti pagano un'alicota a parità di soldi incassati facciamo pagare a tutti un'alicota più bassa c'è un meno incentivo ad evadere le imposte e magari colpiamo più duramente chi le vada quindi attenzione a non banalizzare le scelte di politica fiscale di politica economica sono molto più complesse di quanto potrebbe sembrare che noi possiamo anche applicare un'alicota unica del 99% a tutti il risultato sarebbe che chiunque fa un'attività produttiva e il giorno dopo se ne andrebbe dal paese e andrebbe a localizzarsi in altri paesi questo mi sembra evidente estremizzando il discorso stessa cosa sulle imposte anche le imprese pagano le imposte l'imposta analoga per le imprese si chiamava IRPEG imposta sul reddito delle persone giuridiche le persone giuridiche sono le imprese poi cambiata in IRES imposta sul reddito delle società stesso discorso le imprese pagano una percentuale del proprio reddito come imposta quindi in realtà il discorso delle aliquote progressive è molto meno diffuso si tende ad andare verso l'aliquota unica proprio per il discorso che facevo poc'anzi perché qui se io metto delle aliquote progressive c'è un forte incentivo a evadere le imposte attenzione in maniera tra virgolette molto meno fraudolenta si parlerebbe di elusione no io ho una società che ha un certo utile tendo a dividere la società in un numero di società più piccole proprio per cercare di risolvere questo tipo di problema ho un certo utile lo divido per cento società ognuna fa un centesimo di quell'utile e quindi mi riporterei ad aliquote più basso ed è veramente molto difficile poi contestare i meccanismi di questo genere chiaro il concetto? oltre a queste imposte dirette ce ne sono altre imposte dirette imposte messe da amministrazioni regionali imposte messe da amministrazioni comunali tanti tipi di imposte sul reddito poi l'altra grossa categoria sono le imposte indirette che non si pagano direttamente sul reddito ma che colpiscono indirettamente il reddito perché vanno a colpire i consumi l'imposta indiretta più nota anche qui praticamente in tutti i paesi occidentali si chiama IVA imposta sul valore aggiunto ogni qualvolta acquistiamo un bene tutti noi anche se magari non ci facciamo caso non lo sappiamo una cifra dei soldi che paghiamo viene versata come imposta la percentuale varia da bene a bene in questo momento in Italia la grande maggioranza dei beni abbiamo il 22% poi ci sono tutta una serie di beni che hanno delle aliquote agevolate perché si vuole magari agevolare il consumo di un bene piuttosto che di un altro che sono beni alimentari primari hanno delle aliquote agevolate e così via dicendo questo significa che un aliquota del 22% se poi spendete 122 euro per acquistare una camicia 22 euro sono IVA e 100 euro invece sono il prezzo del bene grazie a tutti il concetto ce ne sono altre imposte indirette le accise che sono imposte che vanno a colpire particolari categorie di beni quella che dà un gettito molto significativo è l'accisa sui carburanti sui carburanti oltre che pagare l'IVA si paga un'accisa cioè una tassa in ragione fissa di ogni litro di carburante pagato se andiamo a sommare il prezzo pagato per l'IVA e per le accise ci accorgeremo che per un litro di carburante grosso modo cambia a seconda di come uscite il prezzo del petrolio però ben più del 50% sono pagate come accise e come IVA quindi ogni volta voi spendete 10 euro per mettere benzina nella vostra automobile state pagando 6-7 euro in tasse d'accordo? consideriamo anche questo è giusto magari sapere ciò premesso dopo aver applicato le tasse può capitare che questa differenza sia positiva o negativa se positiva si dice che lo Stato è in avanzo se negativa si dice che lo Stato è in disavanzo o in deficit capita che gli Stati sono in disavanzo? si capita attenzione non è un fatto di per sé negativo che lo Stato abbia un disavanzo lo Stato non è un'impresa non deve fare profit l'obiettivo dello Stato non è fare i profitti economici sono le imprese che hanno per obiettivo quello del profitto economico lo Stato deve ridurre le disegualità sociali per da tutti pari opportunità assicurare condizioni di vita degne ai cittadini e così via dicendo quindi può anche fare disavanzo il problema nasce quando questo disavanzo supera un certo limite e capiremo il perché tra l'altro per un paese come l'Italia che si trova nell'euro non c'è la possibilità di fare un disavanzo illimitato l'apporto tra il deficit e il PIL di cui abbiamo parlato la volta scorsa è limitato dalle regole della moneta unica in particolare non si può superare il 3% del PIL cioè un paese che si trova nella moneta unica non può superare un disavanzo pari al 3% del PIL in Italia il PIL abbiamo visto la volta scorsa in media 2.000 miliardi grossomodo 3% 60 miliardi di disavanzo se si superano si può superare per motivi particolari bisogna andare a contattare con la comunità europea magari avete seguito i giorni in questi giorni si sta facendolo la malabra finanziaria cioè si sta decidendo come recoprire il disavanzo di quest'anno il Presidente del Consiglio sta trattando con la comunità europea per avere un'anderoga al disavanzo massimo dovuta al terremoto alle spese per il terremoto che sono spese eccezionali dovuta alle spese per accogliere i migranti che sono spese eccezionali si sta trattando con la comunità europea per cercare di capire se l'Italia avrà o meno una possibilità di avere un disavanzo aggiuntivo su cui poter giocare d'accordo? benissimo i paesi sono in disavanzo ed è un fatto di per sé non negativo attenzione anche gli Stati Uniti d'America i paesi con l'economia più grande del mondo sono tipicamente in disavanzo non è questo il problema il problema dove nasce? nasce perché per farsi finanziare questo disavanzo non c'è dubbio i paesi si devono far prestare il denaro chi presta il denaro agli Stati? due categorie di soggetti gli altri Stati due macro categorie e gli investitori vediamo prima gli altri Stati così sbarchiamo subito questo punto perché gli Stati dovrebbero prestare denaro a altri Stati? no sono un po' male un po' come non dico che siano dei concorrenti nel senso di imprese concorrenti però la logica è un po' simile perché uno Stato dovrebbe prestare il denaro a un proprio concorrente in realtà gli Stati che si fanno prestare il denaro da altri Stati sono solo di fatto i paesi meno ricchi meno sviluppati questo perché? perché non hanno la possibilità di farsi prestare denaro in maniera significativa dal mercato perché il mercato gli investitori non credono al fatto che quegli Stati gli possano restituire il denaro e quindi non glielo prestano e quindi per far prestarsi il denaro hanno solo modo di farsi prestare il denaro dai paesi più ricchi ma i paesi più ricchi perché gli prestano il denaro? perché sono buoni tra virgolette? no purtroppo in economia non esiste il concetto di bontà e cose del genere non funziona così non dico che sia corretto e attenzione queste sono le regole del gioco economia di tipo capitalista le imprese devono fare il massimo profitto possibile gli Stati devono fare certe cose ma non certo essere buoni tra virgolette mettiamola così gli Stati prestano denaro attraverso i loro organi Fondo Monetario Internazionale Banca per lo Sviluppo eccetera agli Stati più poveri per un motivo molto pratico perché vogliono far diventare quegli Stati meno poveri li vogliono far sviluppare questo perché come vedremo quando parleremo di microeconomia tutto il sistema economico la crescita del sistema economico è basata sul fatto che la dimensione del mercato mondiale il numero di consumatori la disponibilità di spesa di questi consumatori cresca sempre di più cresca all'infinito e quindi dopo che i consumatori dei paesi occidentali sono comprati tre televisori due macchine dieci frigoriferi quattordici camice sì però più di tanto alla fine come dire incroveranno a crescere i loro consumi con un tasso di crescita via via minore e quindi anche i paesi più sviluppati se vogliono vendere i loro i beni che le loro imprese producono devono vendere i consumatori dei paesi molto sviluppati meno sviluppati ed è quello che è accaduto negli ultimi anni sono via via cresciuti nuovi paesi e i nuovi consumatori sono entrati sul mercato questo è un fatto ovviamente che chi gestisce l'economia politica dei paesi più ricchi lo sa perfettamente e quindi ha interesse affinché i paesi meno ricchi si sviluppino dal punto di vista economico e poi ci sono anche altri motivi che riguardano i paesi molto poveri molto meno ricchi se sono molto poveri prima o poi le persone che vivono all'interno di quei paesi tenderanno a lasciare quei paesi e a emigrare all'interno dei paesi più ricchi fatto giustissimo ecco non c'è nessun dubbio però dal punto di vista economico puramente dal punto di vista economico questo è un problema perché gestire questi flussi di immigrazione costano e allora una delle strategie è quella di cercare di ridurre questi flussi di immigratore cercando di rendere un po' meno poveri questi paesi quindi cercando di creare un po' di sviluppo in questi paesi e facendo parte di un'economia di mercato anche in questi paesi chiaro il concetto il problema è che non sempre all'interno di questi paesi meno sviluppati ci sono dei regimi di governo che siano delle democrazie di senso compiuto e quindi non è detto che questi soldi prestati poi vengano investiti da questi paesi in modo tale da far sviluppare nel modo corretto la loro popolazione e quindi può capitare che questi paesi meno sviluppati magari non restituiscono i soldi infatti sentite mai parlare di ridurre il debito dei paesi meno sviluppati si parla proprio di questo come dicevo gli stati prestano denaro agli altri stati oppure per gli stati più ricchi sto banalizzando il concetto per macro categorie è chiaro che ci possono anche essere prestiti da stato e stato più sviluppato comunque dicevo in linea di massima gli stati più ricchi si fanno prestare denaro dagli investitori come? essenzialmente emettendo obbligazioni facendo proprio quello che abbiamo visto in questa prima ora direzione le obbligazioni che si chiamano bond con il termine inglese anglosassone più correttamente sono emesse di fatto da tutti i paesi occidentali per finanziare il proprio disavanzo in Italia ad esempio lo Stato italiano emette tre tipi di obbligazioni il buono del tesoro pluriennale BTP che cos'è il buono del tesoro pluriennale? è un'obbligazione a tasso fisso a cedola fissa quella che abbiamo visto prima quello è proprio il diagramma di flusso di cassa di un BTP durata da basse durate due tre anni fino a durate molto lunghe venticinque anni prego buono del tesoro pluriennale obbligazione a tasso fisso a cedola fissa d'accordo? oltre a questa poi c'è un altro tipo di obbligazione altri due tipi di obbligazione uno è l'arcinoto BOT buono ordinario del tesoro il BOT ha un diagramma di flussi di cassa un po' diverso non ci sono cedove nel senso che la promessa dello Stato che in questo caso italiano che emette il BOT è di restituire semplicemente il valore nominale alla scadenza quindi chi acquista il BOT acquista la promessa di vedere restituito il valore nominale chi acquista un BOT dal valore nominale di mille euro la durata dei BOT visto che non ci sono cedute è molto più limitata mesi oppure uno massimo due anni chi acquista un BOT annuale dal valore nominale di mille euro acquista la promessa di vedere restituiti mille euro tra un anno questa promessa va all'asta si fa all'asta dei BOT ovviamente se li parlate qualche BOT è proprio questa ovviamente tenderà a non pagarla un prezzo pari al valore nominale se la paga mille euro avrà avuto una redditività di zero non è provocatorio in questo momento le redditività dei BOT sono molto vicine allo zero qualcuno potrebbe dire ma perché qualcuno presta del denaro allo Stato italiano con una redditività pari a zero il discorso è complesso se ne abbiamo tempo ci torneremo d'accordo? pagando un prezzo di mercato minore del valore nominale per esempio se per assurdo perché non sono questi i valori attuali si paga un BOT di mille euro 900 euro durata un anno si sarà conseguito un rendimento di 100 euro sul 900 quindi l'11,1% d'accordo? chiaro il concetto questo è il BOT oppure la terza obbligazione si chiama certificato di credito del tesoro CCT che cos'è il CCT? è un'obbligazione il cui diagramma di flusso di cassa è simile a quello del BTP solo che il rendimento non è fisso ma è invariabile quindi quella che viene data non è il rendimento nominale un numero fisso per tutta la durata dell'obbligazione ma viene data la legge futura di variazione del rendimento nominale l'equazione che determina il rendimento cedola per cedola della nostra obbligazione ovviamente è una legge predeterminata che è fissata da parametri esogeni esterni al sistema vi spiego meglio ad esempio uno dei parametri più utilizzati per le leggi di variazione del CCT è Euribor Euribor è il tasso di interesse al quale le banche la banca centrale europea presta denaro alle altre banche europee quindi un po' il tasso di interesse originario se quello è il tasso di interesse al quale la banca centrale europea presta denaro alle altre banche le altre banche a loro volta presteranno il denaro a quel tasso più un delta bene quindi la legge di variazione sarà da Euribor più un delta questo delta si chiama spread in termini tecnico quindi viene detto qual è il parametro base Euribor qual è il delta cioè il percentuale di quanto bisognerà aumentarlo poi chi acquista il CCT mese per mese anzi trimestre per trimestre o semestre per semestre se il tasso di interesse è semestrale va a vedere qual è Euribor lo spread lo conosce quindi saprà qual è il suo tasso di interesse perché secondo voi è più rischioso avere un'obbligazione a tasso fisso variabile fisso se io acquisto un'obbligazione a tasso fisso di 25 anni io acquisto quella promessa e acquisto quel tasso di interesse per i prossimi 25 anni qualsiasi cosa succeda quindi se per esempio ho acquistato un'obbligazione a un tasso di interesse del 2% e poi all'improvviso aumentano i tassi di interesse di mercato i tassi di interesse sono saliti al 5% io non ci posso fare più nulla ormai avrò sempre il 2% di interesse che è un tasso basso rispetto a quello che avrei conseguito certo mi potrebbe anche andare bene viceversa l'acquisto al 2% i tassi si abbassano ho fatto un buon affare però il rischio è proprio connesso a questo fatto non sono protetto dalle oscillazioni future dei tassi di mercato se invece io acquisto un'obbligazione a tasso di mercato io con questa legge seguo un'obbligazione che io scusa a tassi variabili io con questa legge avrò sempre una cedola che in qualche modo segue i tassi di mercato e quindi sto comprando un'obbligazione con un basso grado di rischio bene dicevo queste sono le obbligazioni vendute emesse dalla rossa in italiano per completezza visto che ho parlato di spread sto dando un po' di informazioni del tutto generali avete mai sentito parlare di spread leggendo i giorni adesso un po' meno qualche anno fa praticamente un giorno si eppure l'altro si parlava di spread tanto è vero che in Italia è caduto un governo a causa dello spread a tutti gli effetti è caduto il governo Berlusconi a causa di un innalzamento improvviso degli spread che è stato poi sostituito dal governo Monti che cos'è lo spread? lo spread non è altro che la differenza tra il tasso di interesse di mercato di un'obbligazione scelta come campione scelta come campione di diversi stati il BTP decennale cioè quello di durata 10 anni e l'analoga obbligazione emessa da uno stato preso come riferimento in Europa lo stato preso come riferimento non può che essere la Germania l'analoga obbligazione in Germania si chiama Bund quindi lo spread è la differenza tra il rendimento corrente del BTP decennale e il rendimento corrente del Bund decennale espresso in punti base i punti base non sono altro che i punti percentuali moltiplicato 100 cioè dire che c'è uno spread in Italia come adesso succede di 120 punti base più o meno adesso non mi ricordo il valore ma diciamo 120 punti base equivale a dire che il rendimento corrente del BTP decennale è dell'1,2% più elevato del rendimento del Bund decennale tedesco d'accordo? chiaro il concetto? quando appunto ci fu la sostituzione del governo lo spread aveva superato i 600 punti base che significa che il rendimento delle obbligazioni del BTP decennale e un po' di tutte le altre obbligazioni ovviamente a seconda della scadenza superava del 6% il rendimento del Bund decennale all'epoca il rendimento del Bund decennale intorno al 2% stiamo parlando del rendimento intorno all'8% questo significa che per farsi prestare un miliardo di euro bisognava pagare l'8% cioè 80 milioni di euro di interesse d'accordo? qual è il problema? perché appunto dicevo prima un disavanzo eccessivo genera problemi perché naturalmente se io faccio disavanzo ogni anno i soldi che mi devo far prestare anno per anno crescono perché io devo finanziare il disavanzo dell'anno precedente che non ho ancora coperto e mi sono fatto prestare però poi alla fine prima o poi quei soldi li devo restituire quindi se ancora non ho magari ecco supponiamo che mi faccio coprire questo disavanzo facendo solo BTP decennale in realtà è un mix di titoli di breve lunga scadenza anche molto complessa la decisione di quale titoli emette comunque per assurdo copro questo disavanzo con solo i BTP decennali 2016 devo finanziare il disavanzo del 2015 però mi hanno anche restituito i soldi del disavanzo di 10 anni prima ormai 2005 quindi dovrò anche coprire il disavanzo di 10 anni prima chiaro il concetto se lo faccio ogni anno prima o poi mi troverò un monte di disavanzi cumulati che si chiama debito pubblico disavanzo cumulato si chiama debito pubblico e rappresenta il debito complessivo dello Stato molto forte da finanziare in questo momento il debito pubblico in Italia l'ha fatto disavanzi molto alti per molti anni è superiore al 120% del PIL che significa che grosso modo il PIL è 2.000 miliardi di dollari in euro varia un poco ma comunque questo è l'ordine di cadenza abbiamo un debito pubblico di 2.400 miliardi d'accordo? facciamo due conti siamo a 50 milioni siamo di più però per dire il conto semplice con 50 milioni se fosse 2.500 miliardi ciascuno di noi nel giorno in cui nasce come dire fa il primo pagito e si trova con un debito pubblico di 50.000 euro queste sono le città questo significa che per pagare questo debito ciascuno di noi si decide per assurdo di estinguere tutti in un anno ciascun cittadino di qualsiasi età di qualsiasi società dovrebbe pagare 50.000 euro prendo conto che il reddito medio medio degli italiani all'incirca di 30.000 euro non di più questo è un ordine di grandezza ciascuna persona dovrebbe lavorare due anni gratis un po' di meno perché i bambini non lavorano però insomma ho dato delle macro cifre ma fa capire qual è il debito pubblico ora cosa succede? più cresce questo debito pubblico e più la promessa di restituire quel denaro viene percepita come incerta cioè le persone che acquistano quella promessa ci credono sempre un po' meno perché io faccio debito faccio debito faccio debito a un certo momento eh signori cari mi dispiace io non investisco più nulla a nessuno è successo che gli stati si siano trovati in questa condizione? sì ci sono stati paesi che sono falliti di fatto e che non hanno più pagato il debito pubblico l'Argentina per fare un esempio molto noto po' di anni fa la Grecia recentemente e quindi in un certo momento hanno deciso di non pagare più quel debito pubblico o meglio si sono messi d'accordo con gli investitori cosa facciamo? decidete di non avere più nulla oppure magari ci mettiamo d'accordo e vi pago solo la metà del vostro debito il 30 il 50 quello che sia quindi può capitare che i paesi non paghino questo debito e questo è ovvio nel senso che più cresce il debito cumulato più per prima cosa questo disavanzo si chiama disavanzo primario per il disavanzo complessivo del paese poi dobbiamo aggiungerci anno per anno gli interessi pagati sul debito pubblico degli anni precedenti quindi per prima cosa si aumentano il debito pubblico aumenteranno anche gli interessi pagati quindi poi l'anno dopo devo emettere obbligazioni non solo per finanziare il disavanzo primario ma anche per pagare gli interessi che già sono in deficit seconda cosa prima o poi gli investitori incominciano a non fidarsi più del fatto che io non restituisca il mio debito e quindi magari comprano pure l'obbligazione ma vogliono un rendimento più elevato cioè la comprano a un prezzo più basso aumenta lo spread aumenta 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 più aumenta lo spread più gli investitori vedono questo spread elevato si fidano ancora ancora meno e quindi i nuovi accetteranno di comprare le obbligazioni a un prezzo ancora più basso investimento più elevato se si esagera velocemente si può arrivare al momento in cui gli obbligazionisti non esistono più c'è nessuno compra più obbligazioni è un problema per lo Stato certo che è un problema a un certo momento lo Stato non riesce più a finanziare il proprio debito non ha più soldi non paga più gli stipendi non paga più le pensioni non fa più nulla ecco questo è un motivo per cui all'epoca accadde un governo e venne sostituito con un altro governo con l'obiettivo che aveva magari una maggiore credibilità dal punto di vista economico-finanziario ma insomma l'obiettivo era di ridurre lo spread come si fa a ridurre questo spread bisogna fare aumentare la fiducia dei consumatori esiste un solo modo bisogna ridurre il disavanzo il che significa o ridurre la spesa pubblica e i trasferimenti non ci riesce mai nessuno oppure l'altro metodo molto doloroso dal punto di vista politico è aumentare le tasse motivo per cui quando si deve fare un'operazione di questo genere in maniera significativa molto forte ecco che i politici tendono a fare un passo indietro e vengono sostituiti almeno in Italia e sia chiaro da un tra virgolette un governo tecnico cioè dei tecnici prestati alla politica che hanno questo obiettivo niente di meno arrivare ridurre il deficit cioè aumentare le tasse è chiaro che dal punto di vista politico aumentare le tasse non piace a nessun politico questo è evidente è chiaro il concetto questo successo in Italia benissimo domande su questo punto ho in corollario a quello che abbiamo detto sinora abbiamo la nostra obbligazione 1030 30 30 30 0 1 2 14 la metto all'asta ti offre di più l'acquista dove viene fatta quest'asta è un'asta telematica viene fatta nella borse nei mercati finanziari nel dipendimento non è che si sta lì una volta effettivamente in quei mercati si faceva l'asta alzando le mani è stato pure qualche film molto carino era uno con Eddie Murphy veramente simpatico richiamava appunto questo concetto e non mi ricordo il nome del film ma insomma ovviamente adesso è un'asta fatta in maniera telematica perché un soggetto dovrebbe pagare più o meno cara questa promessa è semplice supponiamo che un soggetto voglia investire una cifra più o meno mille euro questo soggetto decide qual è il grado di rischio che vuole avere sul proprio investimento saranno soggetti che saranno meno sensibili al rischio e soggetti che saranno più sensibili al rischio quindi soggetti che vogliono avere un rischio basso magari i soldi che investono gli servono per mandare i figli all'università d'accordo? soggetti che invece accettano di avere un grado di rischio più alto hanno diversi soldi vogliono giocarsi di forza d'accordo? stimano qual è il proprio grado di rischio il mio grado di rischio è pagato da un rendimento del 3% all'anno quindi in questo momento in cui le redditività degli investimenti sono abbastanza bassi e gli investimenti meno rischi su un grado di rischio non altissimo ma neanche bassissimo cerco di comprare sul mercato uno strumento finanziario che mi assicura per me rendo conto delle mie percezioni un rischio che viene ben pagato da una redditività del 3% mi accorgo di questa obbligazione emessa da un paese X d'accordo? valdo questa promessa un po' rischiosa non rischiosissima ma un po' rischiosa e valdo questo rischio ben pagato con una redditività del 3% all'anno e quindi offro proprio 1000 euro d'accordo? perché se io mi aggiudico questa obbligazione con un prezzo di 1000 euro avrò una redditività sul mio investimento proprio del 3% pari alla valutazione di rischio che ho fatto su questa promessa chiaro il concetto? d'accordo? oppure questa obbligazione non la valuto con una rischiosità ben pagata del 3% e mi compro un altro strumento finanziario magari ci sarà qualcuno che invece la valuterà con una rischiosità del 4% e sarà il soggetto che la valuterò meglio di tutti il soggetto pagherà un prezzo che abbiamo visto prima essere vicino a 900 euro pagando un prezzo vicino a 900 euro ha valutato la rischiosità di questo intervento di questo investimento ben pagata da un tasso di interesse del 4% e magari sarà stata l'investitore che ha meglio valutato o meno peggio valutato questo investimento e si aggiudicherà l'obbligazione ovviamente era un soggetto che voleva un investimento con un grado di rischiosità pari al 4% o viceversa ci sarà un soggetto o questo investimento viene valutato da qualcuno a un grado di rischiosità più basso del 2% e offrirà un prezzo tale per cui questo investimento gli darà proprio una redditività del 2% 1.050 euro adesso non ho fatto il calcolo a memoria e si aggiudicherà quest'obbligazione d'accordo? ecco perché le obbligazioni vengono acquistate a prezzi diversi dal valore nominale tenete conto che si tende ad emettere l'obbligazione a un valore nominale presunto uguale o circa uguale al prezzo di mercato presunto che si intende ottenere questo perché è molto antipatico per un soggetto emettere un'obbligazione a un valore nominale del 3% e poi questa obbligazione viene acquisita a un rendimento del 10% vuol dire che si è perso di credibilità cioè io ho fatto una promessa che non è stata ritenuta credibile dal mercato la volta prossima quando emetterò le obbligazioni avrò un po' più di difficoltà quindi si cerca grossomodo di emettere le obbligazioni a un valore vicino a prezzo di mercato altra cosa come vedremo nella prossima volta questa obbligazione magari il soggetto che ha acquistato questa obbligazione ah chiedo scusa una parentesi quali gli altri soggetti che mettono le obbligazioni le imprese perché le imprese mettono obbligazioni e mettono obbligazioni per finanziare i propri investimenti devono comprare macchinari devono assumere persone quindi si fanno prestare del denaro o se lo fanno prestare dalle banche come vedremo tra qualche minuto i mutui oppure se lo fanno prestare dal mercato finanziario dagli investitori e mettono obbligazioni esattamente allo stesso modo in cui le mettono gli stati ovviamente quali imprese mettono obbligazioni quelle che hanno una solidità economica patrimoniale e finanziaria tale per cui ci sia una certa credibilità nella promessa che vengono sul mercato stesso discorso di vita quindi per farlo breve mettono obbligazioni le imprese di più grandi dimensioni quelle più solide può capitare che delle imprese non restituiscono il denaro e sì qui capita ancora di più con più frequenza del caso degli stati sono stati tanti i casi in cui le imprese sono fallite e non hanno restituito il denaro a chi gliel'ha prestato acquistato obbligazioni Cilio Parma Banca e Turia recentemente ma tante piccole e medie imprese che comunque mettono obbligazioni che sono meno conosciute non c'è dubbio allora dicevo può capitare ad esempio che dopo 4 faccio meglio il disegno se non si vede poco può capitare che qua abbiamo il valore nominale l'esempio è da 1000 qua abbiamo 0 l'esempio di prima 1 30 2 30 3 30 4 30 5 30 e poi ci fermiamo puntini 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 supponiamo che un soggetto abbia acquistato questa obbligazione l'esempio di prima l'abbia pagata 900 avrà conseguito un rendimento l'abbiamo visto prima circa il 4% al semestre circa l'8% all'anno d'accordo? bene questo soggetto dopo 4 semestri cioè dopo 2 anni dopo aver incassato anche questa cellula di 30 euro vuole vendere l'obbligazione perché un soggetto dovrebbe vendere l'obbligazione? uno perché magari gli servono i soldi sono cambiate i suoi orizzonti temporali le sue necessità economiche e non ha tempo di aspettare sino alla fine del settimo anno per vedere restituiti 1000 euro se vogliamo il grosso incasso alla fine del settimo anno i soldi gli servono adesso vuole venderla la può vendere? si va sul mercato finanziario e vende cosa? questo è già passato vende un pezzo di promessa vende questa parte qui della promessa vende la promessa che siano restituiti questi importi di denaro questi già sono stati restituiti che è in cassa di lui questi ancora li devono essere restituiti vende questa parte di promessa cioè chiede chi si vuole comprare la promessa di avere restituiti 30 euro al quinto semestre 30 al sesto e il governo minare alla fine attenzione il soggetto che restituisce i soldi è sempre lo stesso l'emettitore però questa transazione non ha nessun valore cioè per il soggetto emettitore o li restituisco a tizio o li restituisco a caio non cambia nulla tant'è vero che le obbligazioni sono al portatore quindi chi detiene il titolo nel momento in cui matura la cellula e nel momento finale ha il diritto di avere restituiti i soldi è rilevante invece è rilevante per chi vende l'obbligazione chi vende l'obbligazione la venderà a un prezzo più uno supponiamo che sia questo questo è il prezzo incassato da chi vende l'obbligazione quindi chi ha venduto l'obbligazione avrà conseguito questo investimento faremo i calcoli lo vediamo negli esercizi e vedremo la sua renditività reale chi invece l'acquista pagherà il prezzo più uno e quindi si faranno i calcoli su questa parte di investimento d'accordo? e quando sarà questo prezzo più uno? e qui arriviamo al secondo motivo per cui un soggetto dovrebbe rendere l'obbligazione quando questo soggetto l'ha acquistata ha valutato la rischiosità di questa promessa pari a il 4% semestrale può capitare che nel corso della durata dell'obbligazione cambi questa valutazione all'improvviso valuta questa rischiosità per chi ha qualche informazione valuta questa rischiosità più alta d'accordo? e si vuole liberare di questa promessa perché lui l'ha pagata un prezzo che gli assicura una renditività pari al 4% all'improvviso valuta la rischiosità cresciuta del 5% e stima che i conti non tornano e quindi cerca per così dire di vendere il pezzo di promessa che manca a qualche altro soggetto che magari non ha la stessa percezione di aumentata rischiosità e che si è disposto a pagare allo stesso prezzo in modo tale che lui non ha avuto problemi perché fino adesso ha guadagnato quello che doveva fare e si è liberato del rischio aumentato da lui percepito e sta passando questo rischio su un altro soggetto ovviamente lo deve trovare cioè deve trovare perché anche qui lui la vende a chi offre di più d'accordo? deve trovare un soggetto che fa la stima inversa e che è disposta ad accollarsi quel rischio le obbligazioni vengono acquistate e vendute su mercati finanziari in enorme quantità in ogni secondo in questo momento nei mercati mondiali saranno scambiati miliardi e miliardi di dollari di obbligazioni d'accordo? chi può acquistarle? beh tutti qualcuno di voi ha mai acquistato obbligazioni? no magari c'era nessuno di voi gioca o scommette in borsa? benissimo in questo momento dovete fare altro però scommetto che magari qualcuno scommette le partite di calcio non è detto che sia un grado di rischio migliore o come dire più forte o meno forte delle scommesse in borsa quindi sono scommesse in tutti e due casi allora come si gioca in borsa? come si fa questo? adesso è molto semplice qualcuno di voi ha un conto corrente bancario? sì qualcuno magari l'avrà chiunque ha un conto corrente bancario adesso è abituato ad avere il PIN online a fare le operazioni online ormai in banca non va quasi più nessuno ecco con pochissima difficoltà ci si può abilitare ad acquistare titoli praticamente in tutte le parti del mondo con una qualsiasi banca quindi ormai è diventata un'operazione semplicissima mentre prima era molto complesso prima vent'anni fa adesso è veramente semplice e si possono acquistare titoli obbligazioni anche di bassissimi importi ormai veramente un qualcosa che possono fare più o meno tutti dove si vedono le quotazioni aprite la vostra home page del conto corrente bancario se siete abilitati a transazioni in borsa avrete anche gratuitamente almeno le informazioni principali sulle quotazioni poi se voi avete informazioni più sofisticate magari dovrete in qualche modo pagare oppure comprate un giornale finanziario il giornale finanziario più diffuso di tutti è il Sole 24 ore avete mai letto il Sole 24 ore ve lo presento questa è la copia di oggi del Sole 24 ore ecco lo vedete mai nessuno l'ha letto sembra anche giusto però vi assicuro che c'è un'altissima percentuale che diversi di voi lo leggeranno perché magari diventeranno manager in azienda oppure lavoreranno in società di consulenze il Sole 24 ore fa parte dell'armamentario del consulente quindi dovete avere l'abito di ordinanza per chi fa questo vestire e sotto braccio almeno la mattina è il Sole 24 ore poi magari sotto il giornale vi nascondete la gazzetta dello sport anche simile come colore però almeno dovete averlo ecco sul Sole 24 ore ci sono tante notizie interessanti un giornale fatto di numeri tanti numeri quindi come dire va bene per gli ingegneri ecco non si reire in telecamera anche numeri molto piccoli per chi sta avanti quindi mi sono anche portato gli occhiavi di ordinanza perché è impossibile leggerli pensione documento economico finanziario con l'Unione Europea una partita da 7,7 miliardi quello di cui parlavamo prima si sta trattando con l'Unione Europea per avere un deficit aggiuntivo di 7,7 miliardi di euro da poter giostrare in deroga ai parametri a cui lo Stato italiano è soggetto quindi vuole fare un deficit di 7,7 miliardi di euro in più di quello che potrebbe fare giustificandolo con le spese per il terremoto con le spese per gli immigrati e così di dicendo è una trattativa lo Stato dice 7,7 la Comunità Europea magari dice 2 per dire ovviamente poi si arriverà a un compromesso si verrà perché proprio in questi giorni si sta decidendo quale sarà il deficit che possiamo sopportare e per il deficit che non possiamo sopportare bisogna fare una manovra finanziaria cioè bisogna ridurre spesa pubblica e trasferimenti e aumentare le tasse per rientrare nel deficit massimo che la Comunità Europea ci autorizza a sopportare i titoli finanziari le quotazioni di borsa le troviamo nel supplemento finanza e mercato questo è un giornale abbastanza di ampia diffusione ce ne sono altri di più tecnici con maggiori informazioni così ad esempio oltre ai mercati azionari di cui se capita ne parleremo abbiamo le quotazioni dei principali mercati obbligazionali di ieri per esempio per i titoli di Stato i titoli di Stato è veramente impossibile leggere lo senso occhiali prendiamo un qualsiasi BTP di durata residua pari a 10 anni cioè grosso modo che scade tra 10 anni quindi stiamo nel 2016 qualcosa che scade nel 2026 ecco qua abbiamo un BTP semestrale scadenza 2026 valore rendimento nominale dell'1,25% al semestre annuale cedola semestrale ieri questo BTP è stato venduto per la vita residua questo BTP è stato emesso nel 2012 quindi sono già passati in realtà 2012 2026 una durata di 15 anni quindi sono già passati 5 anni ne rimangono circa 10 anni quindi questo pezzo di promessa è stato venduto a un prezzo medio il giornale ovviamente riporta la media delle transazioni fatte su questo BTP ieri ad una cifra che assicura un vendimento di lo ritrovo perché me lo sono perso dell'1,30% quindi abbastanza simile al rendimento nominale questo significa che dal momento in cui è stato emesso questo BTP ad oggi non sono tanto cambiate le percezioni degli investitori sulla solidità dello Stato italiano se però andiamo a leggere lo vedo subito sotto un BTP che è stato emesso molti anni prima è stato emesso nel 2005 quindi era una durata superiore era una durata ventennale con un valore nominale del 6,50% quindi in quel momento nel momento in cui è stato emesso lo Stato italiano era appunto in plena tempesta di spread d'accordo e quindi i rendimenti di emissione che erano vicini a quello di mercato erano di circa il 6,5% ieri è stato venduto ad un prezzo tale per cui il rendimento era dell'1,30% ovviamente è simile a quello di prima perché la vita di residua è sempre 10 anni quindi quello che è passato prima ci interessa meno quando andiamo a fare i conti reali viene un prezzo per cui il rendimento reale è dell'1,30% d'accordo? cedola 6,5% questo significa cedole più elevate prezzi più bassi di quello precedente 2026 6,50% il prezzo era 153% no? prezzo molto più alto del valore nominale perché i rendimenti si sono abbassati bene ci ho premesso magari ogni tanto leggete perché il sole 24 non può essere utile magari una volta tanto per vedere cosa di cui si parla concludo questa lezione 5 minuti 10 che cosa sono i mutui? la volta prossima faremo esercizi su queste cose il mutuo non è alto che anche in questo caso uno strumento finanziario questa volta attraverso il quale un'istituzione finanziaria presta del denaro uno strumento finanziario attraverso il quale un'istituzione finanziaria presta del denaro sempre di prestito si tratta mentre dell'obbligazione l'istituzione se vogliamo è quello che riceve il prestito il soggetto emettitore e il privato l'investitore è quello che presta il denaro nel mutuo l'istituzione è colei che presta il denaro la banca e il soggetto che acquista il mutuo è il soggetto che riceve il prestito e il mutuo rappresenta le condizioni attraverso le quali il soggetto che acquista il mutuo questa volta restituisce il denaro restituisce il denaro ci possono essere diversi modi di restituire il denaro tutti insieme a rate fisse e così via di 100 guardiamo ad esempio uno dei mutui più diffusi il mutuo a tasso fisso a rata fissa mutuo a tasso fisso a rata fissa qui ci mettiamo 0 qui ci mettiamo n il soggetto che acquista il mutuo all'istante di tempo 0 riceve il prestito dalla banca quindi riceve un importo p e lo restituisce con n rate di importo fisso a d'accordo? quindi il soggetto che acquista il mutuo riceve dal soggetto che concede il mutuo la banca la cifra e lo restituisce con n rate pari a da sia i il tasso di interesse fisso i mutui possono essere anche a tasso variabile cioè con delle leggi di variazione del tasso di interesse predeterminato faremo un esercizio una volta prossima come si calcola la data A? la logica è sempre la stessa trovare qual è quel tasso di interesse che rende equivalenti le entrate e le uscite stesso dovremmo averlo capito scegliamo un istante qualsiasi in cui fare l'equivalenza ad esempio distante di tempo a zero A uguale a P che moltiplica il coefficiente quale coefficiente? A dato al tasso di interesse per n periodi e questo permette di calcolare la rata fissa è importante per la generica rata T tutte le rate sono sempre uguali ad A determinare qual è la quota interessi BDT e qual è la quota che io pago per restituire il mio debito BDT la quota capitale ovviamente la quota interessi e la quota capitale hanno una somma costante pari ad A la rata è sempre la stessa però rata per rata cambia la cifra che io pago per interessi e la cifra che io pago per restituire il debito questo perché il tasso di interesse è sempre costante dopo un anno se la rata è annuale io devo pagare gli interessi su tutti i soldi che gli hanno prestato nella prima rata pagherò questi interessi su tutti i soldi e poi restituirò un po' di soldi che altrimenti se pago solo gli interessi poi non restituisco mai nulla nel secondo anno io partirò dall'inizio del secondo anno con un po' di soldi che ho già restituito e quindi poiché il tasso di interesse è fisso andrò a pagare un interesse su soldi da restituire un po' più bassi e quindi pagherò meno per interessi perché la somma è costante cresce la quota di restituzione del capitale cioè andando in questa direzione IDT scende la quota di restituzione del denaro sale quindi le prime rate saranno percentualmente soprattutto interessi le ultime percentualmente le restituzioni del capitale motivo per cui se io acquisto un mutuo di 100.000 euro 10 anni rata annuale dopo 5 anni dopo che ho pagato 5 rate voglio estinguere il mutuo vado in banca mi aspetto di restituire alla banca più o meno della metà del debito più o meno di 50.000 euro più perché nelle prime 5 rate io avrò pagato in percentuale molti più interessi delle seconde rate è importante proprio per questo calcolare rata per rata IDT e BDT perché devo andare a vedere quanti soldi devo ancora restituire alla banca voglio estinguere il mutuo in anticipo devo sapere quanti soldi ho pagato per interesse come si fa con le formule ci fermiamo mettiamoci all'istante di tempo T andiamo un istante di tempo immediatamente precedente a T-1 voglio calcolare qual è il valore residuo del mutuo a T-1 cioè proprio quindi T-1 quanti soldi devo ancora restituire alla banca dopo che ho pagato questa rata la rata T-1 cioè tutte queste rate le ho già pagate voglio sapere quanti soldi devo ancora restituire alla banca se voglio estinguere il mutuo come si fa non devo ovviamente fare la somma delle rate che mancano ma rendo conto del tasso di interesse del tempo devo calcolare l'equivalente di questa parte di mutuo all'istante di tempo T-1 quindi P di T-1 qua che formula applico il coefficiente P dato A quindi sarò uguale ad A per il coefficiente P dato A al tasso di interesse I per quanti periodi di tempo devo contare quante sono questi A che ancora mancano da pagare N meno quelli che ho già pagato quindi N meno T-1 quindi qui devo proprio metterci N meno parentesi T-1 questa è la formula che permette di calcolare il valore residuo del mutuo a T-1 poi l'applicherò la volta prossima in gli esercizi se questi sono ancora i soldi da restituire a T-1 dopo un anno io dovrò pagare gli interessi sui soldi ancora da restituire quindi gli interessi che io pago i di T all'istante di tempo T saranno dati dai soldi che ancora devo restituire all'istante di tempo precedente moltiplicato il tasso di interesse che è sempre costante I per P a T-1 e quindi la formula non è alto che I per A per il coefficiente P dato A virgola I virgola N meno T-1 questa è la formula che permette di calcolare la quota interessi della chiesima rata di un mutuo a rata fissa e a tasso interessi fissi e infine applicando questa relazione faccio la differenza e B di T sarà uguale ad A meno i di T cioè uguale ad A meno i A coefficiente P dato A virgola I virgola N meno T-1 e quindi metto in evidenza A A è 1 meno i che moltiplica il coefficiente P dato A virgola I virgola N meno T-1 questa è la formula che permette di calcolare qual è la quota capitale cioè la quota che va a restituire il mio debito relativa alla rata chiesima ripeto e concludo mutuo rappresenta le condizioni attraverso le quali l'istituzione finanziaria presta del denaro a un soggetto che acquista il mutuo nel mutuo a rata fissa e a tasso fisso quello che non si mantiene fisso è rata per rata la quota interessi e la quota capitale gli interessi tendono a crescere con l'andare in avanti del tempo e gli interessi tendono a decrescere la quota di restituzione del debito essendo la somma costante tende a crescere come si calcola la quota di interessi e la quota capitale dobbiamo calcolare il debito residuo il valore residuo del mutuo all'istante precedente a quello a cui facciamo il calcolo con questa formula Pt-1 uguale a coefficiente più dato a n-T-1 moltipliciamo il tasso di interesse e otteniamo la quota interessi sottraiamo la quota interessi dalla rata costante e otteniamo la quota di restituzione del capitale va bene abbiamo terminato